Ciao a tutti, bentornati su Ciacchiazione, ospite di oggi il coordinatore regionale minori per la campania del sindacato autonomo Polizia Penitenziaria Sappe, Costigliola Federico, che saluto e ringrazio per aver accettato. Buonasera a tutti, buonasera a te, Valerio. Federico, come non parlare della serie tv del momento che è Mare Fuori, vista e stravista sia su Netflix che sulla Rai, che su RaiPlay, record di visualizzazioni per una serie che esplora a tutto tondo la vita dentro un carcere minorile di Napoli. Noi su Ciacchiazione abbiamo fatto già dei video relativi a questa serie tv, spiegando anche delle curiosità, ma oggi volevamo chiedere ad una persona, un professionista, che ha vissuto e vive la realtà del carcere minorile. Che cosa pensa di una serie come questa? E andremo a farti vedere, a chiederti quali sono le scene che sono state più verosimili e le situazioni che ci ha mostrato la serie, andandole un po' ad analizzare insieme a te. Sei pronto? Inizierei con la prima domanda. Sono pronto e curioso di queste domande che mi porrai. Allora, Mare Fuori, come dicevamo, esplora la vita all'interno di un carcere minorile. Spesso però si finisce per far passare la criminalità come qualcosa da emulare come eroi del nostro tempo. Invece credo che il lavoro di professionisti delle forze dell'ordine vada sottolineato e in Italia lo si faccia troppo coso. Tu che ne pensi, innanzitutto, di questa cosa qui? In effetti, io sono assolutamente d'accordo con quello che tu hai appena detto. Infatti, diciamo che queste serie tv spesso che vanno ad accendere i riflettori su delle realtà che sono conosciute agli occhi di pochi, fondamentalmente. Mettono in luce degli aspetti che, a mio avviso, andrebbero più nascosti che messi in evidenza come può essere l'ambizione criminale di questi ragazzi oppure le azioni proprio criminali che mettono in essere questi ragazzi, anziché dare invece luce a quella che è la professionalità, l'attenzione, l'impegno e anche il disagio che vive la polizia penitenziaria o comunque anche le altre figure che lavorano all'interno dell'istituto penale minorino. Perché spesso sono più disagi che viviamo noi, perché non dobbiamo dimenticarci che l'utenza supera le mura dell'istituto perché commette un reato. Noi quotidianamente entriamo all'interno delle mura dell'istituto, ma per svolgere i nostri compiti istituzionali, con tutte le difficoltà che ne conseguono, con tutto il disagio che viviamo, perché comunque il momento, diciamo, attuale della giustizia minorile non è proprio al massimo delle sue potenzialità. Mi rendo conto che poi c'è tutto un organico di persone che lavorano dietro, insomma, e dentro il carcere minorile ci sono tantissime figure e penso che siano tutte altrettanto importanti e funzionali alla macchina che deve comunque portare avanti un certo tipo di lavoro. e a proposito di questi ragazzi e del rapporto, insomma, della polizia penitenziaria, io ricordo nella serie c'è una frase che il comandante Massimo, insomma, ripete spesso, mi è rimasta molto impressa e lui dice ne voglio salvare almeno uno, l'ha detto due o tre volte nelle tre stagioni che abbiamo visto. Tu cosa ne pensi? Questi ragazzi possono davvero essere salvati? C'è speranza oppure sono destinati ciclicamente a tornare all'interno della criminalità? Allora, spesso il recupero di questi ragazzi non dipende solo dalla volontà del ragazzo in sé per sé, ma che influisce molto anche il contesto sociale in cui loro crescono, vivono e con il quale si trovano a dover convivere quotidianamente. Ovvio che il recupero c'è, non posso dire che non c'è, soprattutto nel circuito minorile. Non è proprio, non ha numeri altissimi, però diciamo esempi di ragazzi veramente recuperati ce ne sono. Io in prima persona ne ho vissuti di diversi. Poi diciamo che il circuito minorile, soprattutto l'istituto per esempio, io mi occupo, essendo il coordinatore regionale del sindacato autonomo Salve, io mi occupo del settore minorile di tutto il distretto campano e conosco benissimo le realtà sia dell'istituto minorile di Nisida che di quello di Airola che sono due istituti che diciamo sono presenti in campagna. Sì. E soprattutto Nisida che è un istituto che dà veramente possibilità al ragazzo che ha la volontà, ha le condizioni, ha un contesto sociale un po' più diciamo gestibile, dà veramente la possibilità di poter intraprendere una strada nuova, una strada che lo porta al reinserimento sociale veramente a pieno titolo. Quindi nella domanda specifica che tu mi hai fatto ti dico sì, si recuperano. È vero che il comandante della serie fa sempre il venimento a quella frase, che non esalverei al minuto. Per noi che, diciamo, mastichiamo... Sì, a un certo punto diventa quasi una sfida, nel senso che è una cosa... Diventa una sfida perché poi quello, cioè l'obiettivo nostro, io rappresento la polizia penitenziaria, quindi parlo della polizia penitenziaria, l'obiettivo nostro oltre è quello di garantire l'ordine, la sicurezza e l'incolumità dei detenuti stessi, no? Però anche noi poi nel contesto minorire ci immergiamo in quello che va al di là poi del nostro reale compito istituzionale, no? Creiamo un rapporto, creiamo... E quindi speriamo anche noi fondamentalmente che riusciamo a recuperare qualche ragazzo. Anche più di uno, infatti. Non solo nella serie, ma anche nella realtà, no? No, bella questa cosa di Nisida che hai raccontato perché poi uno lo vede come un luogo, purtroppo, insomma, che c'è tanta curiosità, ma ci sono anche dei pensieri di persone che non conoscono, quindi che non sono informate abbastanza su quello che poi invece è tutto il lavoro di recupero che c'è all'interno di un carcere pienoile. E si parla, per sentito dire... Veramente tanto il lavoro che si fa per tentare di arrivare a quell'obiettivo, eh? Da parte di tutte le figure, eh? Parlo della polizia veneziana, parlo di tutta l'istituzione che gira intorno all'istituzione operale. Quindi ce n'è di lavoro, eh? Senza dubbio, eh? Infatti, infatti. Senti, allora, nella serie, poi ovviamente parliamo di una serie, quindi di una storia molto romanzata che deve dare anche colpi di scena e quindi ci sono diverse morti all'interno di questa storia, di trovare fuori. E però, insomma, è verosimile che ci siano così tante morti senza fare alcun tipo di spoiler. Però, insomma, mi sono sembrate parecchie. Anche perché, diciamo, uno... Il lavoro... O era perché i personaggi non potevano più citare o... Doveva abbandonare il set. Diciamo che nella realtà si verificano i sogni di suicidio, i sogni di autolesionismo, questo sicuro ce ne sono. Non sono il numero, diciamo, altissimo, anzi. Eh, però diciamo che poi, ehm, concretamente, il fatto che poi concretamente si possano realizzare, ogni tutto veramente a minimi termini, perché comunque la presenza della polizia penitenziaria è assidua, è costante, ehm, quindi nella maggior parte dei casi si riescono pure a sventare magari questi, eh, tentativi di suicidio di autolesionismo, proprio per l'intervento, grazie all'intervento della polizia vedezzara che opera H24 all'interno delle lezioni detettive ed è sempre presente, sempre attenta, quindi... Sì, anche perché... Non mi dà... 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 Sì, infatti, perché penso poi che sia importante anche la tutela dell'incolumità dei detenuti, nelle cose... Non so, a parte dei nostri compitizionali, quindi... Eh, infatti... Sicuramente, infatti, come dicevamo prima, ci sono alcune cose, insomma, che fanno vedere, perché sono un po' troppo, ma... Però ci sta, perché stiamo parlando sempre di una storia romanzata e che fa appassionare poi le... gli utenti, no? L'utente televisivo e che lo porta all'interno di un qualcosa per vedersi, no? Sempre più puntate. Senti, invece, ehm... Se ci fosse un tentativo di evasione, non so se è mai capitato, insomma, ehm... Immagino che possano verificarsi. Qual è il protocollo nella realtà? Perché c'è, per esempio, nella serie Filippo e Nadizza, quando tanti utenti si sono lamentati del fatto che... Ma questi erano fuori e nessuno l'andava a cercare. Sembrava che nessuno li cercasse, né la polizia, né nessuno. Ma... Sta cosa, infatti, pure a me mi ha lasciato un po'. Tu che... Insomma, che ne pensi? Il protocollo è quello semplicemente, inizialmente, di dare l'allarme per viaggerare, e accertarsi da dove è avvenuta la fuga, quando è avvenuta la fuga. Quindi, qualora dovesse avvenire una cosa del genere. Però diciamo che poi tutto il resto viene dettato in automatico da quelle che sono le circostanze che determinano un episodio del genere, no? Certo. Quindi, c'è il protocollo, ma va sviluppato poi materialmente dal personale che sta in servizio, seguendo le circostanze che hanno generato poi quell'episodio, capito? Non... Finamica un po' avvista. E' per sé che è una garanzia sull'immediato, però poi si innescano tutta una serie di... Magari c'è il coinvolgimento di altre forze di polizia, c'è il coinvolgimento di altre istituzioni. Quindi, veramente dipende dalla circostanza, da come nasce la cosa, da come si sviluppa, se stanno... se vengono individuati, se non vengono individuati, capito? Non è proprio semplice e poi non è ben definita la cosa, no? Nel senso, lo è però va sempre poi sviluppata secondo quello che accade. Eh sì, si naviga un po' avvista, insomma, poi come, quando, dove, quanti, soprattutto, poi pure... Io credo che non si inventa pure l'ansia, l'ansia, l'ansia di trovare il detenuto che magari è scappato, la paura, sono tante pure le emozioni che poi si susseguono, no? Non è una situazione raccomandabile. No, infatti, non è un film, non è un film, no? Assolutamente. E immagino, insomma, che queste cose siano avvenute poche volte, o mai, nella tua esperienza. Beh, no, è la mia esperienza un paio di volte, però se ne verificano, è non l'ultima, ci fu quella di... Eh, da nuoro, di nuoro, ovviamente, quando dobbiamo facciare ad adulti, in minorito è un poco più... Succede meno. Succede meno, succede meno. Succede meno, in minorito, sempre. Senti, invece, quanto è importante per voi, comunque, membri della Polizia Penitenziaria, instaurare un rapporto di fiducia con i ragazzi? Guarda, per quanto riguarda, diciamo, gli istituti norini, io ritengo che sia indispensabile. Nel senso, va mostrata innanzitutto credibilità al minore, perché solo mostrando credibilità, mostrando serietà, riesce ad conquistare un po' di fiducia, non del tutto, ovviamente, perché c'è tanta diffidenza, sono comunque ragazzi già strutturati, è un tipo di rapporto e dei rapporti che sono proprio l'opposto di quello che ristauriamo noi, no? Visto che all'esterno loro vivono in contesti sociali veramente... Problematici, sì. E quindi, diciamo, io credo che l'adulto, se mostra credibilità, se mostra serietà, affidabilità, la fiducia la riesce a instaurare. Ed è poi quello che ti porta ad avere qualche soddisfazione sul lavoro, perché poi ne giova l'autorevolezza, ne giova la credibilità, quindi anche la fiducia la relazione che loro poi mostrano nei confronti della gente di polizia penitenziaria, no? Quindi credo che sia fondamentale. Questo è il circuito minorile, però. Gli adulti può starci e non starci, perché se parliamo di minori esagerati, che non hanno nulla a che fare con il settore minorile, quindi è tutta un'altra gestione. Sì, e infatti, e infatti. Anche perché parliamo di ragazzi. C'è, anticipo una domanda che mi ero scritto, come funziona per l'età? Nel senso, quando diventano maggiorenni vanno automaticamente... No, prima era così, nel senso che al complimento del diciottesimo anno di età venivano in automatico trasferiti gli istituti per adulti. Poi, con il ministro Orlando, fu introdotta una modifica legislativa che ha previsto la permanenza nel circuito minorile fino a 25 anni di questi ragazzi. Ammesso che si comportino bene, possano seguire un percorso di reinserimento sociale. Diciamo che inizialmente questa legge sembrava che potesse dare qualche risultato positivo, poi invece, almeno noi, come parte sindacale, abbiamo capito che è stato l'opposto, perché si verifica che praticamente ci troviamo nello stesso istituto, ragazzi di 15-16 anni, con un profilo criminale, seppur già strutturato, che però non possono mai paragonarsi a un ragazzo che ne è a 24-25. E ha iniziato già dai suoi 13-14 anni a questa attività criminale, no? Quindi ti trovi a gestire due tipi di utenze completamente differenti, l'una prevale sull'altra, mentre quell'altra vorrebbe prevalere ma non riesce. Quindi si innescano poi delle dinamiche, delle situazioni che generano disordini, c'erano momenti di tensione all'interno degli istituti. Quindi purtroppo andrebbe rimodificata questa legge. Noi come parte sindacale l'abbiamo annunciato più volte, però noi ci mettiamo il nostro, poi chi la modifica materialmente la legge, non siamo noi. Eh, infatti. No, no, però hai sollevato un problema che insomma, che non è una stupidaggine, che non è da solo. No, assolutamente, assolutamente. E invece, ragazzi e ragazze, come funziona? Maschi e femmine? Stanno veramente così tanto a contatto come ci fanno vedere? Ci sono dei istituti penali minorili dove sia la sezione femminile che quella maschile, come può essere visita, un esempio. Anche se ora attualmente la sezione femminile dell'IPM di Visita, IPM sarebbe stato penale minorile, uso un abbreviativo. Sì, sì. Diciamo che lì la sezione femminile da diversi mesi ha chiuso e quindi non non ci sono detenute donne. Eh, però è stato sempre, ci sono state sempre entrambe le, 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 il tipo di utenza, fino, ripeto, fino a diversi mesi fa. Prendendo esempio proprio l'Isida, eh, dove sono tante le attività che si, si svolgono per i ragazzi, dove c'è grossa attenzione su questo lavoro di recupero del minore, si verifica che in alcuni laboratori, magari che possa essere la pasticceria, piuttosto che la pizzeria, piuttosto che la ceramica, si verifica che magari ragazze e ragazzi sono lì a svolgere insieme l'attività. Però, richiamando poi quello che si è visto, diciamo, nella serie, dove i ragazzi erano quasi, sembrava quasi che fossero liberi di poter chiacchierare, di poter... Eh, sì, al campetto, no? Fuori il campetto. Volendo richiamare quello, diciamo che la realtà si distacca completamente da quello che poi hanno mostrato nella serie. Ma soprattutto perché all'interno di questi locali, laboratori, dove si svolgono queste attività, c'è sempre, costantemente, la presenza della polizia penitenziale. Cosa che non permette assolutamente il contatto, ci sarà pure, ma è un contatto minimo, basato veramente su quello che è in quel momento una necessità nata nell'attività, ma non può andare oltre, perché la polizia penitenziale non lo permette. Quindi, veramente, il contatto si riduce ai minimi termini. Ai minimi termini. Hai accennato di attività, come i laboratori. Raccontaci un po', insomma, quanto sono importanti le attività che si fanno durante il giorno, anche perché, insomma, lì dentro le giornate sono lunghe, immaginano... Tanto sono lunghe per i minori, sono lunghe per la polizia penitenziale. Quanto per loro, quanto per voi. Sono lunghe per tutte le figure che lavorano all'interno dell'istituto. Le attività ti consegno di alleggerire, anche se, diciamo, non sempre una gestione felice di questa attività ti permette di ottenere dei risultati veri e propri, oppure ti permette di lavorare proprio in serenità, oppure perché il personale un po' manca. Magari si sommano diverse attività, si accavallano gli orari. Quindi, diciamo che c'è bisogno di una gestione veramente ottimale dell'organizzazione di queste attività. E però, se fatte bene, se fatte con criterio, se fatte nel rispetto anche del lavoro della polizia penitenziaria, sono sicuramente di giovamento per la vita proprio detentiva, sia dei minori e sia per la vita lavorativa nostra, perché una cosa è gestire 50 ragazzi divisi, per esempio, 10 in un'attività, 10 in un'altra. Ogni polizia otto penitenziario ha la possibilità di controllare una determinata attività. E una cosa è gestire 50 ragazzi che stanno dalla mattina fino alla sera con la partita di pallone o con la permanenza in stanza o con... non si sa cosa. Senza fa niente, eh, effettivamente. Si è impegnato, si impara qualcosa per chi è intelligente, riesce a cogliere quello che l'attività può donare. Quindi, io ritenio che le attività sono assolutamente produttive per il sistema detentivo. Sì, anche perché possono dare degli sbocchi anche per dopo, no? Ai ragazzi. Assolutamente. Come dicevi tu? Se c'è... La fisica ne è un esempio, è visita a laboratori veramente importanti, che ha fatto, ha permesso, è uscito, ho letto qualche giorno fa, proprio sul mattino, se non erro, l'articolo di un ragazzo che io ho conosciuto personalmente e che attualmente è diventato un pizzaiolo rinomatissimo in America. Lui ha imparato a fare la pizza, lei ha nisita, è un laboratorio a disposizione per i ragazzi. Quindi, diciamo, sotto questo aspetto che chi ha la purvizia, la voglia, l'intelligenza di imparare un mestiere, nisita della offre questa possibilità, eh. Beh, sì, è anche una bella soddisfazione anche per voi, insomma, no? Vedere anche queste storie... Erola lo consente, diciamo che c'è attenzione, dai, il circuito minorile, l'ambizione primaria è proprio quella lì, no? Della gestione di un stipolo, cercare di recuperare quanti più ragazzi possibile e devi per forza necessariamente consentire a questi ragazzi di imparare un qualcosa, altrimenti poi escono, che cosa fanno? Esatto, come fatti. Quindi necessariamente ci devono essere dei laboratori che ti permettono di insegnare un qualcosa, poi sta a loro capire se ne vale la pena o meglio. Certo, ma infatti... No, no, hai detto bene. No, guarda, è un... C'è tanto lavoro dietro, c'è tanto lavoro per questi ragazzi per, insomma, per rilanciare anche la loro... la loro voglia di liberarsi da un passato, da quello che hanno fatto, insomma, da esperienze, da un contesto familiare difficile, sociale... guarda, c'è veramente tanto lavoro dietro e se ne dovrebbe parlare di più e noi nel nostro piccolo, insomma, stiamo facendo due ghiacchiere con te, ma guarda, sto imparando tantissimo anche ascoltandoti. No, noi come parte... veramente... Mettiamo, acceniamo i riflettori H24 su quelle che sono le questioni che attanagliano poi i vari istituti. Io mi occupo del settore minorile, ci sono colleghi che si occupano degli adulti, dove il lavoro è moltiplicato rispetto a quello che posso, diciamo, seguire io nel settore minorile. Cerchiamo sempre di mettere alla luce quelle che sono le carenze, le difficoltà, ma anche quelle che sono le efficienze pure di un sistema che per quanti problemi possa avere c'è sempre comunque qualcosa di positivo da evidenziare, no? Quindi... Certo. Il sovracchetto del lavoro della potenzia tendenziale, quindi noi ce la mettiamo tutta anche sotto questo punto di vista. Poi ben vengono iniziative, ecco, questa qua che avete messo in essere pure, tramite altri canali pure, riesce a far emergere in qualcosa che sicuramente è oscuro a tanti, no? Sì, 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 vero, assolutamente. Anzi, invitiamo a visitare il sito del sindacato del Sappe, dove ci sono news, notizie, spiegato, insomma, tutto quello che succede, le criticità. Le sono tantissime, insomma, lo stavo leggendo prima e invito tutti i ragazzi che ci seguono a dare un'occhiata. Senti, allora, ultima domanda, ci facciamo due risate con una delle scene della terza stagione di Mare Fuori e che è stata un po', insomma, clamorosa. E c'è questa scena alla fine della terza stagione, quando i protagonisti si trovano sul tetto, c'è Rosa Ricci, Viola, con la bambina, la figlia di Carmine, in braccio, che vuole buttarla di sotto. e a un certo punto io ho trovato la mossa di Rosa Ricci quando prende la bimba e riesce a salvarla, sembrava Vin Diesel, un film, no? D'azione americana. Secondo te, una situazione... Lo lasciamo alla fantasia del regista, quella scena che non è dai, scherzi a quattroppo, mai rispecchiare quella realtà, sarebbe mai possibile una cosa del genere. Proprio perché di vero c'è la presenza costante, l'attenzione della polizia penitenziaria su ogni tipo di movimento effettuato dai detenuti, su ogni tipo di dinamica, perché diciamo il lavoro della penitenziaria consiste anche nel studiare quello che fanno quotidianamente i ragazzi, soprattutto nel circuito minorile, quindi percepirne le difficoltà, i momenti di agitazione, un'eventuale dinamica che possa degenerare in scontri, quindi diciamo veramente un lavoro minuzioso, un lavoro delicato, un lavoro che... di attenzione, di attenzione a quello che succede, a quello che fanno, a quello che si dicono. Proprio perché lo devi fare, perché purtroppo questi ragazzi sono, vivono queste dinamiche quotidianamente, quindi non hanno nessun problema a riportarle all'interno dell'istituto se non c'è la penitenziaria che ti fa capire a cosa poi vanno incontro nel portare determinate dinamiche all'interno dell'istituto, quindi diciamo sotto questo aspetto sono situazioni quelle che restano un film e basta. Per fortuna. Bene, Federico, io ti ringrazio, ti ringrazio per il tuo tempo, per aver condiviso con noi insomma la tua esperienza, che è stato un piacere veramente e a me sono iniziative che mi apprezzo tantissimo perché spesso viene non vuole essere neanche capito il lavoro che fa la polizia penitenziaria, noi come parte sindacale spesso questo notiamo che c'è proprio una diffidenza, c'è una mancanza proprio di informazione su quello che fa la penitenziaria, che va al di là del semplice aprire e chiudere la cella, c'è tanto tanto di più, tanta attenzione, ripeto, tanto impegno, tanta professionalità, tanto disagio anche che si vive quotidianamente nelle carceri, diciamo queste le cose negative le si sente spesso in televisione, in radio, quindi portare alla luce una testimonianza di quello che il male ma anche il bene di questo lavoro per me è un'iniziativa onorabilissima. grazie, grazie Federico. Bene, ti ringrazio, saluto anche i ragazzi che ci hanno seguito e vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube di Ciacchiazione, ci potete trovare su Facebook e su Instagram dove tutti i giorni postiamo news che riguardano il mondo del cinema e delle serie. Ciao a tutti, grazie Federico, buona serata. Ciao, pure a te, ciao.